buongiorno a tutti buona domenica e siamo sempre qui al nostro blog domenicale anche questa domenica è uno schifo un tempo bruttissimo ma per quale motivo per quale motivo devo capire tutto la settimana è decente arriviamo a domenica e c'è il diluvio universale e non si può fare niente c'è una sfiga allucinante cosa faremo oggi ma intanto abbiamo michele ospite e adesso mi comincio a preparare un sughetto e cosa facciamo oggi facciamo una sorta di ragù che non è proprio napoletano perché il ragù napoletano è una una ricetta della tradizione in generale si prepara il giorno prima per il giorno dopo e si usano vari pezzi di carne tagliati a spezzatino non è il ragù con la carne macinata ma noi oggi faremo un'altra versione una versione che in genere viene fatta in costiera amalfitana in penisola e che il ragù con le braciole e quindi facciamo adesso cominciamo a preparare le braciole cosa sono le braciole sono delle fettine di carne arrotolata a ingoltini e poi messe nel sugo per farlo insaporire cominciamo a preparare le braciole buonasera guarda guarda la faccia guarda la mia o la tua? ah beh la mia è un cesto la mia sì allora in questa domenica piovosa dove ci siamo lasciati stamattina che dovevo preparare un ragù l'ho preparato ma l'abbiamo mangiato? no no perché è arrivato Michele e ha deciso che dovevo andare a mangiare il sushi è arrivato Michele perché chi l'ha detto che dovevamo andare a mangiare il sushi? facebook ha detto facebook che un anno fa l'abbiamo fatto ah che banalità siamo assurdi cioè siamo andati un anno fa io Michele e Rosario forse due no no uno diceva uno siamo andati a mangiare il sushi tutti e tre da Sushiko a Livorno oggi siamo andati da Sushiko a Livorno oggi pomeriggio facebook mi propone la foto dell'anno scorso che eravamo esattamente lo stesso qua ho detto un po' più magri un po' tanto più magri quindi fra un anno dove saremo se volete trovarci già sapete è un fenomeno è una sinusoide esatto e si può scegliere tranquillamente e quindi funziona Sushiko domenica l'anno prossimo ma direttamente l'anno prossimo non è che la settimana prossima no no l'anno prossimo già sapete esattamente dove trovarci per gli autografi potete trovarci là ma quindi cambiamo argomento che stiamo facendo stiamo andando verso casa di Michele perché abbiamo parcheggiato la macchina un attimino alle calende greche e ma proprio non eravamo nemmeno in provincia di Pisa ancora come al solito e vabbè andiamo verso come si chiama il locale dell'appetitio aspetta 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 voi lo sapete ve lo ricordate chiedi tipo lasciatene i commenti sai quelle cose lasciatene i commenti guarda lasciassero una volta un commento lasciate un like di quello che dico io sostenete il canale sostenete perché questa settimana eravamo eravamo 218 siamo diventati 219 220 e poi 219 e siamo un'altra volta 218 e questo è un lutto questo è una cosa grave anzi gravissimo a voi perché siete aggiunti bravi esattamente ma noi per sostenere il canale abbiamo lanciato un trailer che avete visto tutti quanti è che siccome quando lanci trailer michele li commenta allora il prossimo trailer è un trailer di un del film documentario che voi vedrete tutti quanti abbiamo lanciato anche la data 21 aprile mo avete visto i personaggi gli interpreti ma non sarà così potrebbe essere votate da casa quale non volete che vada a disneyland no ma potrebbe anche essere che invece qualcuno che sta a fianco a me potrebbe venire se siete liberi e diciamo volete incontri notturni mi prostituisco per prendere i soldi oh padre eterno si può dire su facebook no non si può dire no allora forse potrei essere io perché se papino ti dai i soldi i soldi esatto e quali lavori facciamo dei lavori extra diciamo per cui no perché non c'ho soldi ecco va bene però vorrei andare a disneyland ok con noi facciamo una raccolta fondi facciamola eh oh ci sono arrivato a chi è disposto a dare euro per mandare a te a disneyland una start up volete votate da casa mandate ma votate una cosa mandato dice il codice iban così ti mandano i soldi e chi se lo ricorda a memoria questo codice iban magari arriva questo video e ma in tutto ciò rosario dov'è qui dici qualcosa anche tu non abbassano le stupidaggini possiamo mandare a disneyland e mi chiede con una raccolta fondi si si vabbè mentate commentate e mi raccomando ingran c'è ingrandino come si dice non so che puoi dire perché mi vedi in inglese increase the channel aumentate ecco supportate il canale perché questo canale deve andare sempre oltre oltre settimana ritorneremo con i video tutorial della di matematica perché sono pare che sono gli unici che vi vedete in questo momento ah ah sì sì che quanti secoli c'è chi segue questo canale so tutti gente ma che ne so io chi sono un po studente matematica se vogliamo ma comunque questo è quanto io non commento e non commentare non abbiamo detto come si chiama il locale non ce lo ricordiamo ma nei commenti loro si non lo ricordo devo indovinarlo non so quali c'era ne ho tre dei locali quello qua piazza e allora si lo dico in live e di noi il basil ma se andiamo lavare cambiando e andiamo cambia babbo facci sapere nei commenti ok arrivederci buonanotte ci ha lasciati sì sì che ci stai a fare tu ciao beh Grazie a tutti. Grazie a tutti. Adesso facciamo i quiz. Di dov'è Michele? È di Los Angeles. E dov'è Los Angeles? In Arabia, in Calabria Saudita. E dove stiamo stasera? A Pisa. A Pisa. A Pisa. A Pisa. Che stasera fa l'aperitivo? Serata Calabrese. Non è stato voluto, ma sì. E quindi abbiamo le cipolle di trofea, patate e pipi, non lo so. Non lo so nemmeno io. E bruschiette con manduia? Che ci sarà? No, no, è un pomodoro piccante, credo. Tutto a posto. Quindi le pesante sarebbe. Va bene. Gli appetivi non ci sono, però ci sono le ceni mangiare. Ci sono. Arrivano anche quelli, se lo metto un po'. Ogni giorno c'è un appetito diverso, una serata diversa, siamo lo sponsor del locale. E quindi venite al Basil. E se il Basil vede questo video, metti mi piace. Metti mi piace al video. Esattamente. E il sponsor del video è il Basil. Lasciate nei commenti se vi è visto questo video, quello che avete mangiato. E noi che mangeremo, per il tempo. E niente, buon appetito. Ciao.